Ed eccoci allo sport e cominciamo con il calcio, il campionato di serie D, il derby tra Foggia ed Audace Cerignola è stato vinto dalla formazione rosso-nera con il punteggio di 2-1. Per il giallo-blu di Feula è stata una partita in cui anche a dominare sono stati anche il nervosismo, tra l'altro ci sono stati anche degli scontri durante la partita tra le tifoserie delle due squadre. Andiamo a sentire l'analisi di Vincenzo Feula, tecnico dell'Audace Cerignola, che si superma sulle due espulsioni dei suoi giocatori.